Entreranno in funzione nei prossimi giorni le 18 videocamere che sono state installate nel centro di Roseto e costate alle casse comunali 15.000 euro. Dispositivi che saranno collegati alla sede della Polizia Municipale in modo che i vigili urbani possano tenere costantemente sotto controllo le zone interessate. L'esigenza di questi strumenti di videosorveglianza è data anche dall'aumento negli ultimi mesi di furti d'auto e negli appartamenti. Oltre a controllare le zone della Movida Rosetana dove spesso si verificano episodi spiacevoli, in particolare dopo le due di notte. In principio erano 15, sono diventate 18 grazie a delle economie. Entreranno in funzione in settimana nei punti nevralici della cosiddetta Movida della città. Quindi parliamo di Piazza Dante, Via Di Giorgio, Via Latini con tutte le rispettive intersezioni con le altre strade. E la pineta centrale davanti a Lido La Lucciola. Questo per monitorare il territorio e fungere anche da deterrente per eventuali atti di vandalismo oppure criminogeni che si verificano nella nostra città. È un primo passo perché noi pensiamo di andare avanti con l'installazione di altre telecamere in altri punti nevralici della città decisi insieme nel Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura nelle scorse settimane. Quindi sono state individuate altre zone che noi avevamo già in animo di monitorare. Quindi procederemo sempre con fondi di bilancio proprio a far sì che questa città sia dotata di ulteriori telecamere per fare in modo che soprattutto di notte non si verificano spiacevoli episodi.